Il rapporto semestrale per Confindustria, che dopo aver analizzato i dati di 200 aziende abruzzese dei diversi settori, stila l'andamento medio da gennaio a giugno 2016. L'export è un dato assolutamente interessante, abbiamo un incremento rispetto al semestre precedente di oltre il 5%, quindi è un dato che dimostra la vitalità del sistema imprenditoriale abruzzese, ma anche sul mercato interno abbiamo qualche dato positivo. La cosa che ci soddisfa in qualche maniera è questo dei sistemi industriali avanzati, penso all'agroalimentare che continua a conquistare mercati, che continua ad esportare, ma anche a conquistare mercato interno, penso al farmaceutico, ovviamente al noto comparto dell'automotive che continua la sua marcia. Il mercato globale mostra un rallentamento della crescita, i dati regionali mostrano difficoltà ad ottenere investimenti sul territorio e resta ancora complicato l'accesso al credito per la microimpresa e la piccola impresa. Il problema centrale che noi abbiamo di fronte in questo momento è a chi destinare le risorse, che sono sempre scarse rispetto agli obiettivi, se destinarle per accelerare il processo innovativo oppure viceversa per destinarle a un processo infrastrutturale. Io credo che il nodo centrale della nostra regione sia quello innovativo, perché la presenza di tantissime piccole imprese che stanno solo e soltanto sul mercato interno impedisce che ci sia un fenomeno innovativo di portata sistemica in generale.